60 anni fa nel 1957 moriva Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa che fu sfortunato abbastanza, morì a soli 61 anni di malattia con addosso la delusione, lo struggimento perché gli editori avevano rifiutato di pubblicare il suo romanzo Il Gatto Pardo, lui aveva mandato il manoscritto a diversi importanti editori, poi è morto 60 anni fa e l'anno dopo, quindi fra pochi mesi il sessantesimo, grazie a Giorgio Bassani il romanzo fu pubblicato ma l'autore era già morto, era morto da un anno, Il Gatto Pardo, di cui vi parlo brevemente qui negli spazi pieni di libri della sede per la Svizzera italiana della Fondazione Svizzera Bibliomedia qui a Biasca, ve ne parlo brevemente, poi nel sito trovate la recensione ma poi sono state scritte migliaia di pagine sul Gatto Pardo per dire che è uno dei grandi romanzi del Novecento, questa è l'edizione originale che uscì nel 1958 da Feltrinelli, poi adesso ci sono diverse edizioni, è un romanzo che vive sempre, lo sfondo è quello della Sicilia di metà Ottocento, trasformazione, rivolgimento epocale, sta per tramontare l'era borbonica, il regno delle due Sicilie, l'antica Sicilia, il regno del sud, stanno arrivando i Garibaldini, le camicie rosse, i Savoia, l'unità d'Italia, il principe Fabrizio Salina sarebbe l'alter ego del nonno dell'autore del principe Tomasi di Lampedusa, massiccio, alto, intelligente, malinconico, con una sua tristezza dentro, la passione per l'astronomia, quietamente sposato, un grande possidente, qualche lampo d'amore furtivo, insomma capisce che la sua epoca sta finendo ma lui non crede nemmeno lui più nel regime esausto, un po' corrotto, senza tante qualità umane, insomma è disilluso sulla sua società, ma d'altro canto così verso la mezza età, dai 50 in su lui sente di appartenervi, non la vuol tradire e sente anche che il nuovo che avanza, i Savoia, l'unità d'Italia, tutto quanto, sì ha abiti e colori nuovi, ma in fondo, in fondo come gli dice suo nipote, l'amato nipote Tancredi, vedi zio bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come prima, insomma in questo tempo di rivolgimento si scrive la storia personale della malinconia e della profondità di questa bellissima figura di principe altero e triste, orgoglioso, possente, ma anche fragile a modo suo e poi anche gli altri personaggi, la bella storia d'amore di Tancredi che sposa la bellissima Angelica, figlia della rivista Possidente Contadino che si inchina ancora al principe, ai poteri antichi, ma sente che adesso stanno per prendere il potere loro, insomma, ma lo sfondo è importantissimo, la Sicilia esausta, attraversata da mille colonizzazioni, dai greci ai romani ai biondi normanni, agli spagnoli, sempre lì ineffabile, quasi impenetrabile, con una sua antica impigrita, geniale, ma anche stanca saggezza, ma soprattutto alla storia esistenziale del principe Fabrizio, una bellissima figura, un grande romanzo del Novecento che fra un anno verrà ricordato per il suo sessantesimo e un anno prima moriva, deluso per il rifiuto degli editori, pensate un po', la bellissima figura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il principe autore della storia di questo principe altero e triste.